Volevo dirvi che io sostengo le ACLI di Bergamo. Le sostengo e ho deciso per questo di iscrivermi, per la prima volta, perché le ACLI sono fondate sul lavoro e sulle comunità. In più a Bergamo le ACLI hanno fatto con molte fedi sotto lo stesso cielo un grande lavoro, un lavoro volto a coltivare i valori della fratellanza, del valore della diversità, a costruire legami tra le persone. Per queste ragioni io mi sono iscritto e invito anche voi a prendere la tessera delle ACLI. Fatelo!